E' caccia al giovane che domenica sera con una busta di carta in testa ha attraversato la strada per fermarsi poi a metà carreggiata sfidando le auto in transito in una sorta di mosca cieca. E' successo a Senigallia in via Capanna, episodio per il quale sono in corso le indagini della polizia che sembrano allargare lo scenario anche ad altri episodi accaduti in zona già sabato sera. I genitori se ne vanno in giro, a destra e mancano hanno tempo, i ragazzi sono abbandonati a se stessi e la scuola non fa abbastanza. Questi ragazzi, sembra chi manca la terra sotto i piedi invece ce n'è tante. Il giovane protagonista ripreso dalle telecamere di sorveglianza rischia ora una sanzione, una denuncia ma ancora peggiore è il rischio per la propria incolumità quando magari per noia o per spavalderia si compiono gesti simili. Campana, nascondino e acchiapparella sono solo alcuni dei giochi più famosi con i quali chi ormai adulto oggi usava passare il tempo ma erano altre epoche, altri contesti e soprattutto altri ragazzi. La società moderna, tecnologica e basata sul consumo di massa ha modificato il modo di divertirsi e le nostre strade, un tempo luogo di socializzazione, sono diventate sempre meno sicure e facilmente influenzabili da tendenze che spesso di costruttivo non hanno nulla, anzi distruggono creatività e sogni di giovani che per spirito di emulazione o per semplice incoscienza non apprezzano il valore della propria vita.